Tutto cominciò con la forgiatura degli anelli e poi se non ricordo male un anerotto lo buttò uno degli anelli dentro un vulcano o qualcosa del genere. Il punto è che quando pensate che il vostro percorso finora sia stato arrazzigogolato e pieno di ostacoli e cose che non avete capito, che vi sono state inutili, delle perdite di tempo o altro, pensate che la maggior parte dei film e dei libri e delle storie che amiamo di più se fossero state facili e fossero andate da A a B, non sarebbero state così interessanti da guardare. Quindi prendete un tè caldo e mettetevi comodi perché stiamo per iniziare il viaggio più bello di tutti. Buongiorno o buonasera, miei giovani virgulti. E' passato così tanto tempo dalla lezione numero 3 che ero quasi tentata di fare quella sulla procrastinazione. Ma ho fatto un sondaggio su YouTube per chiedervi quale avreste preferito facessi prima, per quanto abbia già tutti i temi settati, e mi pareva brutto fare un sondaggio e poi non ascoltarlo. Mi sono fatta una scaletta, quindi per una volta non dimenticherò di dire cose e non aggiungerò del post-critum. Ci tenevo però, prima di cominciare a parlare dell'argomento in generale, a ringraziarvi veramente un sacco perché questa serie di video, di audio, di podcast, non sta avendo milioni di visualizzazioni, ma sta avendo un successo strepitoso per quanto riguarda il mio punto di vista. Perché, a parte alcuni commenti carini, sotto i video ne ho ricevuti tanti, veramente, privatamente, ma che in generale dicevano che quell'audio era capitato a fagiolo, al momento giusto e che gli avevo risollevato la giornata. E tipo, non lo so, ogni volta è stato un colpo al cuore, ma un colpo al cuore bello, in cui ho detto, cazzo, ne hai fatta una giusta! Che meraviglia, che meraviglia, cazzo. Quindi, per quanto molti mi abbiano detto, ah sai, sono timido, se volete dire cose, fatelo, non abbiate paura di suonare smielosi, tanto non potete esserlo più di me. E per me è un enorme incoraggiamento e una gran gioia. Sapere che, oltre a fare compagnia, perché qualcuno mi ascolta finché lavo i piatti, sono riuscita ad accendere qualche lucina in giro, è veramente un cazzo di successo grandioso. Ma non siete qui per sentirmi svirgolare, per cui cominciamo. E da dove si può cominciare un viaggio, un percorso, se non dall'inizio? Come sempre, quello che sentirete nel podcast non è altro che la mia esperienza, quindi prendetela con le dovute pinze, ritagliatela, allentate delle cuciture, mettete delle toppe, per adattare quello che vi dico a voi. Perché quello che è successo a me, quella che è la mia esperienza, non è la vostra. Quindi, quello che dico non è legge, non è una regola che vale per tutti, ma sono le mie elucubrazioni dopo anni di cose. Cominciamo quindi al principio. Il mio percorso, la mia direzione, da dove è cominciata? Beh, intorno alle medie barra superiori, rammento che la giovane, all'epoca Valeria, adesso Max, vaneggiava di cose tipo fare fumetti, solo perché ne leggevo un sacco, e fare la stilista. Ora, se qualcuno mi avesse mai incontrata per strada, riderebbe a questo pensiero, perché io e la moda siamo due linee parallele. Non ci incontriamo mai se non a infinito. E quindi erano boh, delle seghe mentali da giovine. Arrivò poi le superiori, in cui sbroccò e ruttò la mia voglia di scrivere. Ho sempre amato molto le parole, e da povera piccola nerd ho passato più tempo a leggere che a giocare con i bambini. E quindi cominciai a scrivere, delle cose bruttissime, prolisse, perché avevo letto i Buddenbrock di recente, i Malavoglia, quindi mi era rimasta quella prosa che vede il primo punto dopo 40 righe, una cosa orribile. E scrissi anche, in realtà, un testo molto carino per una favola. Peccato che scrissi i primi, tipo, quattro capitoli, e non lo finì. E lo dico con grande amarezza, perché in realtà, rileggendola a posteriori, era scritto veramente bene, cazzo, cioè non mi capacito di averlo scritto io. E non sarei in grado né di ricordare come finiva la storia, né di scrivere altrettanto bene il resto. Quindi è rimasto nelle cose accantonate. Superato il mio amore, in realtà mai morto per la scrittura, andai all'accademia. Ma, nel mezzo del cammin di nostra vita, tra le superiori e l'accademia, il mio primo ragazzo, un ragazzone alto, grosso, con gli occhi chiari, fissato con, no, io divento una regista, e con, look, io sono tuo padre, mi regalò la mia prima tavoletta grafica. Dopo che avevo passato, letteralmente, mesi, a pasticciare con il mouse su MS Paint. Ora, se siete più giovani di me, avrete avuto la fortuna di nascere in un'epoca in cui i computer non erano, letteralmente, delle banchine di Giza. E, se avete avuto questa fortuna, non avete mai avuto la gioia di disegnare con il mouse su un programma che, letteralmente, è un foglio, che non fa un cazzo se non essere un foglio. Beati livelli. Certo. Ecco, è un po' come disegnare con un bastone in mezzo al fango e tentare di riprodurla a Mona Lisa. Più o meno la sensazione di incapacità che ti resta addosso è la stessa, perché il tuo cervello ha un'immagine, ma fisicamente non sei in grado di riprodurla neanche a bestemmie. E, a tanto proposito, ho messo questa bellissima copertina oggi, che è un poster che ho creato in un momento di altissima gioia. E, quindi, dopo aver stuprato letteralmente il mouse, mi venne regalato la Bamboo Fan, che ci lasciò nel 2013, dopo anni di un orato servizio, e un cd con Photoshop craccato. Che meraviglia, cazzo. Che meraviglia. Passai sei mesi, praticamente le vacanze e tutta la fine della quinta superiore, su quel cazzo di programma, con quella tavoletta. Era un nuovo parco giochi, era un mondo nuovo. Era come se mi avessero letteralmente detto Ah, guarda, c'è un portale qui, puoi andare su un altro pianeta, in un altro tempo, in un altro universo. Così, di colpo. Passai sei meravigliosi mesi a schiacciare tasti a caso, perché all'epoca non avevo modo di reperire dei tutorial su come usare Photoshop. E fu allora, al termine di questo percorso pieno di ostacoli, che aprì il mio primo canale YouTube, e poco dopo aprì questo canale di YouTube. Sì, ne avevo un altro, ma questa è un'altra storia. Andai dunque in Accademia. A quel punto avevo scartato un po' di cose dalla lista, continuavo ad amare la scrittura e la lettura, ma avevo questo nuovo superpotere chiamato digitale, e l'amore per il disegno che mi portavo appresso da quando ero nata. fu all'Accademia che incontrai un'insegnante di illustrazione, la quale mi fece scoprire l'illustrazione per l'infanzia. E lì basta, caputte, il mio cervello collassò e dichiarò amore eterno a questa nuova cosa. È stato molto bello. Potrebbe cambiare in futuro, però per ora la storia d'amore continua, con alti e bassi, ma soprattutto alti e un sacco di risate e un sacco di clinti del cazzo. Dicevamo, arrivato a quel punto, quindi, non sapevo esattamente cosa avrei fatto, nel senso che avevo degli amori, avevo una direzione, sapevo che le cose che mi piacevano erano un mondo che non esisteva, perché mi ero comunque appassionata molto a questa cosa chiamata computer, alla possibilità che questo strumento dava di essere ovunque senza letteralmente schiodarsi dalla sedia. E per una pigorona come me, non particolarmente amante delle uscite e degli esseri umani, era veramente fantastico. Arrivata a un certo punto della vostra vita, probabilmente, e non serve andare tanto in là anche a 17 anni, voglio dire a 20 anni, più o meno, non saprete magari cosa volete fare della vostra vita, ma avete più o meno una meta. C'è una montagna lontana, lontana, di cui cogliete la cima, ha un colore bellissimo, e sapete che se non lì, comunque, qualche prato da quelle parti potrebbe essere un posto fichissimo dove dirigersi. Quindi, quando si parla di che direzione prendere, non so che strada prendere, è un po' come per lo stile. Lo stile è una cosa che cresce con voi, come vi ho già esposto nel video dedicato. La strada è un qualcosa che si sceglie man mano, tuttavia, come gli uccelli migratori, sanno che vogliono andare al caldo, magari non proprio andrà in quella spiaggia che avevi pensato, ma sai che più o meno la direzione è quella. Quindi, se siete qui, molto probabilmente, la direzione la sapete già. Nel senso che vi piace probabilmente disegnare, se non disegnare, probabilmente vi piace scrivere, ma comunque siete indirizzati verso qualcosa di artistico, qualcosa di creativo, che vi permetta di usare la testa, le mani e il cuore. E state andando verso. Io, appunto, mi resi conto che il comune denominatore di quasi tutte le cose che mi piaceva fare, che mi interessavano, erano il disegno e il fatto del digitale. Infatti, con gli anni, poi, ho cominciato a cincionare altri programmi, Premiere, per fare montaggio di video, mi piaceva fare riprese, mi piaceva fare fotografie, c'era sempre l'immagine in mezzo e c'era sempre un mezzo che mi permetteva di trasformare un'idea o qualcosa in un'immagine, che fosse fisso e movimento. Quindi è un qualcosa di cui vi rendete conto pian piano. Magari non sapete esattamente la cosa perfetta per voi, ammesso che esista una cosa perfetta per noi, ma sapete le cose che vi piace fare, sapete se vi piace cucinare, se vi piace ascoltare musica, sapete le cose che vi fanno accendere di passione, che vi fanno brillare gli occhi, che vi fanno scaldare il cuore, l'anima e vi rallegrano nella giornata. Quindi sono sicura che per la direzione non abbiate bisogno di una guida, perché avete già la vostra bussola di Jack Sparrow che non indica il nord, ma indica dove volete andare. Ciò che il vostro cuore anela, più di tutto. Quindi è un percorso fatto un po' di andare a tentoni, un po' di cose a caso, nel senso che se tieni l'obiettivo a vista, quindi sai dove stai andando, poi il percorso che fai per arrivare a quel punto non è così importante. Giusto ieri mio padre mi ha raccontato un aneddoto relativo a un insegnante che scrisse A e B su una lavagna e chiese dei bambini quale fosse il percorso migliore per andare da A a B e la maggior parte degli adulti traccerebbe una linea dritta che va da A a B perché è più efficiente, perché A è più breve. Ma al bambino era stato chiesto di tracciare la linea migliore, quale fosse il percorso migliore per andare da A a B e il percorso migliore per andare da A a B non necessariamente è una linea dritta e questo recupera il fatto dell'essere in ritardo. Dipende. Se voi avete fretta di andare da A a B, certo, l'efficienza e la velocità sono tutto. Fai dritto, vai in linea d'aria, arrivi prima, è buona. Ma il bambino disegnò tutto uno strano percorso di curve, di rigori che andava da A a B e era bella, 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 bella lunga la strada per andare da A a B in quel modo, ma per il bambino era la migliore. Questo per dire che il vostro percorso potrebbe essere un continuo, una continua ginkana, potreste addirittura provare delle cose che non hanno assolutamente nulla a che fare apparentemente con quello che vi serve, con quello che pensate debba essere il vostro obiettivo, ma sono tutte cose che prima o poi vi tornano indietro e vi tornano utili. Ricordo ad esempio Miss Crimi Crimi, una mia cara amica che nel suo percorso da truccatrice a fare lettering, a fare una casa produttrice di cartoleria, è passata a fare la portinaia. Quindi, diciamo, anche le persone che potreste conoscere o persone di successo durante il loro percorso magari hanno fatto di tutto, hanno fatto il lattaio, hanno fatto le consegne per la pizza e ogni esperienza in un modo o nell'altro comunque ci insegna qualcosa. Magari non di disegno, ma ci insegna magari a trattare con le persone. Ogni esperienza che facciamo ci resta e non è necessariamente tempo sprecato. Quindi di questo percorso arzigogolato arigogolato, voi potete cogliere nel mentre tutti i fiori, tutti i funghi, tutte le cose che ci stanno in giro. Potete rallentare su una curva in cui trovate qualcosa che vi piace particolarmente. Potete approfondirla e poi quella cosa vi resterà appresso quando andrete avanti. Provate, sperimentate le cose, non dovreste mai aver paura di dire ah cazzo questa cosa non c'entra con quello che devo fare è una perdita di tempo. se è un qualcosa che vi interessa secondo me è bello oltre che utile soffermarsi su quel qualcosa che vi piace perché magari di per sé poi scoprirete che non è quell'attività in particolare che vi affascina. Magari non lo so uno prova il trekking e dice oh mio Dio è fantastico il trekking e magari poi scopre analizzando la cosa che non è il trekking di per sé in quanto attività che gli piace ma il fatto che magari ci andava con degli amici quindi magari è la compagnia delle persone che gli fa bene magari scopre quindi che lavora meglio in uno studio rispetto a lavorare da solo. Ogni cosa che fate ha delle componenti che la rendono bella e la rendono speciale per voi e quelle stesse componenti una volta che capite quali sono potete trovarle in altre attività. e poi prima o poi capiterà che vi innamorerete. C'è chi si innamora a 17 anni della compagna di classe se la sposa e vi sono felici e contenti per sempre e c'è chi ha un sacco di fidanzati e impara ogni volta da ognuno di loro e tra l'altro come coi fidanzati ogni volta che ne trovate uno di merda o anche uno ottimo ma con cui poi non funziona capite cosa non funziona e siete più in grado di riconoscere quelle cose le volte successive quindi le esperienze che fate non sono mai buttate al vento sono tutti anellini che vanno a formare la catena di cui al momento voi non vedete la fine magari siete proprio all'inizio e non avete idea di cosa sta succedendo però si sta creando una concatenazione di cose si sta formando il vostro carattere quello che vi piace si sta formando la vostra esperienza anche che è un qualcosa che col tempo vi aiuterà a lavorare meglio a essere più efficienti più produttivi e a disperdere meno le energie soprattutto e a fare cose che vi piacciono di più ora se permettete consulto il mio ho fatto una scaletta cazzo almeno la guardo a questo punto parlando di cose che si sperimentano vi dico anche quest'altra cosa nell'arco della mia sperimentazione una delle prime cose che feci completamente a caso ignara di cosa stavo andando a fare furono delle illustrazioni di tipo fantasy per dei manuali di giochi di ruolo avevo giocato a giochi di ruolo alle superiori mi piacevo mi divertivo ma non è che fossi mai stata particolarmente amante del genere in sé a livello artistico per motivi assolutamente a caso la mia migliore amica mi disse ah c'è un tizio che lavora per D&D che sta cercando qualcosa amico di una mia amica io rimasi molto confusa onestamente dissi ma esattamente cosa fa sto tizio ah bo non lo so tu scrivigli vabbè salve signor max vi giuro che l'unica ragione per cui scrivissi a quella persona è perché si chiamava massimo di conseguenza max e siccome mi ero già data il nome di max named after my cat pensai che fosse di buon auspicio sono una persona molto razionale però mi piacere vedere i pattern so che sono mere coincidenze però sono molto belle quindi vedi max e dici vabbè scriviamo sto qua ma il che vada mi riderà in faccia e mi dirà che cazzo vuoi da me insomma gli scrivissi che ero amica dell'amica 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 che non sapevo esattamente cosa lui facesse ma che mi avevano riferito lavorasse per D&D non si sa bene in che vece venne fuori che questo tizio non era l'uomo delle pulizie ma il capo della all'epoca Asterion Press così che non c'entrava praticamente niente con D&D se non che effettivamente facevano dei manuali di giochi di ruolo mi disse né più né meno guarda noi accettiamo un portfolio qua e là quando saprei disegnare come Alberto Dallago fatti viva e io con più faccia da culo che anima dissi ma perché devo aspettare metti mia la prova adesso no così proprio Don Ble mi fece fare una prova l'indomani gli mandai il disegno finito se riguardo quel disegno mi viene male a ogni organo che può comprimersi però glielo mandai il giorno dopo quindi letteralmente meno di 24 ore dopo gli mandai lo speed painting di quel disegno e mi disse cazzo ma sei veloce manco quello non disegno bene ma almeno sono veloce a disegnare e questa era la mia grande autostima comunque e mi disse beh sappi che sei appena passata davanti a 16 persone che ci avevano lasciato il curriculum ho 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 e così Max entrò nel magico mondo del lavoro dove a volte un po' di faccia di merda funziona quindi così consiglio spazionato a caso non abbiate paura di buttarvi a talluopo giusto per esulare dalla scaletta una volta tanto tipo la settima qualche giorno fa per motivi di lavoro eccessivo mi sono arrivate troppe richieste di cosa da fare e avendo già dei libri da seguire non avevo nessuna intenzione di fare altre cose ma una me l'ha chiesta una mia cara cliente e amica quindi è una persona molto simpatica che con cui ho collaborato spesso e alla quale mi dà realmente molto fastidio dire di no perché non se lo merita perché è una bravissima persona un'altra tizia che ho cercato in tutti i modi di sganciarmi perché proprio non la volevo ma era tipo no mio Dio voglio il tuo lavoro ti amo tantissimo tienimi i soldi e dopo il terzo no gli ho detto vabbè dai ma questo vabbè dai è venuto solo dopo che ho messo un annuncio su Instagram alla ricerca di Minion quindi per la prima volta nella mia vita ho effettivamente cercato degli assistenti a cui far fare parte delle cose che devo fare quelle che possono essere fatte da un'altra persona senza che il risultato finale ne vada a perdere in alcun modo e ho messo un annuncio mi hanno risposto qualcosa come 20 una ventina di persone di cui almeno 15 hanno iniziato il messaggio dicendo non sono all'altezza non sono capace non sono abbastanza bravo e ho detto sentite allora intanto andatevi a vedere video sull'essere abbastanza dopo ne riparliamo e tre di queste persone tra cui un ragazzino di 17 anni mi hanno mi hanno mandato le loro cose ho detto ok tu funzioni sei colorare molto bene mi puoi essere utile tu mi puoi essere utile per quest'altra cosa tu per quest'altra alcune persone mi hanno scritto dopo un giorno o due giorni dicendo ah sai ho visto che avevi messo l'annuncio però tanto non sono capace non sarei andata bene io gli ho raccontato questa cosa ho detto guarda che quasi tutti quelli che mi hanno scritto erano convinti di non essere abbastanza di non essere capaci però tre li ho presi lo stesso e quindi questa persona ha detto cazzo beh allora la prossima volta ci provo quindi ricordatevelo mal che vada quando provate vi possono dire di no ma cioè non è un calcio nei coglioni oddio magari trovate anche il pezzo di merda che vi dice oh come osi proporre questa robaccia a uno del mio calibro ma a quel punto potete sonoramente mandarlo a fare in culo anche da parte mia quindi consiglio spassionato soprattutto all'inizio buttatevi un pochino siete giovani avete la sua ancora morbide anche se vi arriva un no un calcio rotante vaffanculo via andate di nuovo avanti per la vostra strada i no non vi uccidono so che sembra strano ma i no non vi uccidono possono far male all'orgoglio ma non vi uccidono anzi vi fortificano o magari vi fanno capire cosa avete sbagliato perché a volte magari proprio l'approccio non tanto il vostro lavoro ma l'approccio che usate che è sbagliato e se trovate una persona vagamente cortese e con 5 minuti liberi magari sarà quella stessa a dirvi guarda se tu avessi fatto così sarebbe stato meglio e quindi potete imparare delle cose never be scared by no's i no non fanno così male cioè si fanno male per un po' ma siete giovani poi ve lo dimenticate certo se uno vi ha già detto no tra volte magari no però nel senso una volta un tentativo potete farlo insistere magari è fastidioso la maggior parte delle persone in qualsiasi ambito una persona insistente tendenzialmente se ti ha detto no una volta te lo dirà di nuovo però un tentativo concedetevelo stavamo dicendo il fantasy cominciai a fare dei lavori per questi manuali pagati per me era tipo oh mio dio sagra ma in realtà no era una merda veramente pagavano poco però ero contenta perché stavo facendo gavetta e sempre a tal luopo la gavetta si può fare anche retribuita meglio così ve lo dico spassionatamente cosa che tra l'altro è un'altra deviazione vabbè abbiamo detto che il percorso migliore non è quello delito giusto quindi apro un altro parentesi uno dei dei tre minion mi ha mandato un audio bellissimo l'altro giorno dopo che gli ho fatto la ramanzina perché quando gli ho chiesto quanto volesse per il lavoro che doveva fare mi disse tipo a massimo 20 euro dopo aver preventivato 4 ore di lavoro gli ho detto ragazzo qua c'è un problema di matematica di fondo perché 20 euro per 4 ore sono 5 euro all'ora 5 euro all'ora no please e quindi insomma gli ho fatto una tiritera alla fine mi ha dato un altro prezzo per lo stesso lavoro mi ha detto 60 euro e poi mi ha mandato un audio che è tipo ho gongolato come un coniglio per un quarto d'ora e ve lo faccio ascoltare col suo permesso non riesco a registrare quest'audio perché sono così emozionato che non riesco a dire cose che poi non sembrino cringe però è tipo veramente bellissimo anche per c'è l'esperienza in totale wow anche se sono un po' arrabbiato perché il mese di agosto vendendo tre quadri di cui uno ad olio ho fatto 60 euro quindi quello sì che era veramente campo da cotone però vabbè passato passato ho imparato grazie tanto poi ditemi che io non devo essere contenta cazzo insomma cominciai a lavorare per questi libri fantasy il problema è che in quel momento il mio portfolio consisteva praticamente solo in quello perché di fatto a parte qualche cosina mia avevo fatto praticamente solo quello e questa cosa mi portò a altre richieste di roba fantasy che portò ad altre richieste di roba fantasy che portò ad altre richieste di roba fantasy e arrivai dopo mesi letteralmente se non addirittura di più a dire ma senti a te fa cagare il fantasy perché continui a farlo è perché continuano a chiedermelo è per forza continui a fare quello è ovvio che la gente vede che fai quella cosa e continuerà a chiederti questa cosa quindi quando vi ho detto sperimentate badate molto bene che quello che fate è quello che la gente vi chiederà quindi se voi vi specializzate in una cosa avete il 97% di probabilità che le persone continuino a chiedervi quella cosa ergo se non vi piace quello che state facendo se a un certo punto vi rendete conto che si bello ma non fa per me dovete cominciare a dire no perché se voi continuate a fare quella cosa continueranno a chiedervi quella e magari delle cose che vi piacciono di più le dovrete tenere accantonate per mesi o anni in attesa che qualcuno ve le chiede o in attesa di avere tempo di farle e non capiterà quindi dovete prendere e dare un taglio alla cosa voi è come quei rapporti un po' morbosi in cui stai con quella persona da talmente tanto tempo che ti fa brutto lasciarla perché in realtà non è che la odi però non la ami più ma non sai come dirglielo è truncare bisogna a un certo punto truncare e ve lo dico perché mi è successo più di una volta perché in un certo periodo cominciai a montare video musicali per conto di un mio amico e questo portò ad altre richieste di video musicali da montare ad altre richieste ogni volta che mi andavo a incanalare in qualcosa ma tuttora sto lavorando a libri per bambini ne ho fatti alcuni di anatomia alcuni relativi allo spazio eccetera e le persone vedendo i lavori che posto tramite l'agenzia anche su cose spaziali continuano a chiedermi cose spaziali e io sono contenta perché è quello che voglio fare a me piace fare libri scientifici più della narrativa mi piacciono i libri che insegnano delle cose ai bambini di conseguenza continuando a fare quello continuando a specializzarmi a cambiare lo stile cercando di andare verso la direzione che mi piace di più obbligo letteralmente le persone a chiedermi quello che mi piace perché ovviamente attirerò le persone che cercano quello che sto già facendo quindi il mio consiglio è quando qualcosa vi stufa smettete di farlo anche se avete richieste anche se economicamente potrebbe sembrarvi conveniente continuare andreste a ledere alla parte psicologica del lavoro alla parte che lo rende bello perché la cosa del ama quello che fai e non lavorerai un solo giorno in vita tua è no non è proprio così è vero fino a un certo punto nel senso che ama quello che fai e ti spaccherai comunque il cazzo avrai comunque le rogne però sarà come si suol dire il panino alla merda che tu ti sei scelto questa espressione arriva da un libro che ha letto Daniela Miss Crimi Crimi di cui ho sentito parlare in un suo video e che mi è piaciuta molta come espressione è un po' volgare ma anche io sono un po' volgare e che dice letteralmente sei tu che ti scegli il tuo panino alla merda nel senso che qualsiasi lavoro qualsiasi professione qualsiasi cosa ha i lati buoni e cattivi ha dei pro e dei contro ma quello che tu scegli di fare perché ti piace è un qualcosa i cui contro non sono comunque sufficienti a far scemare la gioia che ti dà a fare quella cosa se anche da un lato economicamente un lavoro potrebbe sembrarvi conveniente se proprio non volete abbandonare quella tipologia di lavori cercate quanto meno di smezzarla dedicando altro tempo a cose che invece vi piacciono perché se voi insistete su una strada diventerete ah il tizio che fa i cavalli viola quando voi vi sarete rotti letteralmente stracciati i coglioni di fare cavalli viola e vorrete fare cagnolini arancioni la gente continuerà a chiedervi cavalli viola ah ma guarda io qui avrei un cagnolino arancione sì ma io voglio un cavallo viola non ve scollerete più dalle palle come un gatto attaccato ai marroni come si suol dire nel momento in cui vi andate a infugnare in un angolo non vi scegliete questo famoso panino fate sì che sia quello che vi piace nel momento in cui vi doveste rendere conto che quella cosa lì magari è solo momentaneamente che vi ha stufato però cercate di se non cambiare strada lasciarvi aperta anche un'altra porta quindi specializzatevi in magari un paio di cose diverse adesso parlo di specializzazione in realtà è semplicemente non chiudetevi in un cubo non chiudetevi tutte le porte attorno per troppo tempo perché nel momento in cui doveste rendervi conto che quella stanza non vi piace così tanto farete molta più fatica a uscirne e non essendo un luogo fisico quello di cui sto parlando ma una situazione è più difficile trovare l'uscita perché è un qualcosa che ci si costruisce attorno e c'è sempre la paura di ah ma se smetto di fare quella cosa che piace alle persone poi magari ne faccio un'altra non andrà altrettanto bene magari me ne pentirò magari magari si rimanda per molto tempo rimanendo incastrati in una situazione che finisce per crearci disagio quindi anche a costo di essere un po' cattivi e dire no secco a volte un taglionetto è meglio o comunque dire no a volte per cominciare a fare altre cose in modo da presentare il mondo più sfaccettature come sempre vi ricordo che questa è la mia esperienza poi voi potete fare quel cazzo che vi pare letteralmente però personalmente trovo che quando qualcosa che sia anche un rapporto con le persone comincia a essere disagevole e una e due e tre è vero che l'abitudine diciamo le cose andavano bene una volta mi piaceva una volta era divertente disegnare cavalli viola però no se adesso la cosa non ti dà più gioia stacca ricordo di aver ascoltato un podcast in inglese anni fa di un tizio che lavorava in studio se non ricordo male e faceva grafica ed era arrivato al punto faccia un sacco di soldi era un artista di successo non aveva apparentemente dei problemi ma era arrivato a un punto in cui il solo pensiero di dover svegliarsi andare a fare quel lavoro la mattina gli faceva venire il vomito e voi non volete arrivare a quel punto lì mollò tutto si mise non mi ricordo se a fare il pane o un'altra cosa comunque cioè si prese letteralmente dei due mesi di pausa di zero assoluto di quello che stava facendo per fare qualcosa di diverso che lo smuovesse eccetera il fatto di staccare da quel continuo logorio da quella cosa che lo stava distruggendo ha fatto sì che dopo un paio di mesi il tornare a fare quello che prima era il lavoro che gli piaceva continuasse a piacergli tuttavia ha imparato da quell'esperienza e non ha più permesso di farsi soverchiare di farsi letteralmente sommergere da quel tipo di cosa e ha imparato a spezzettare e mi pare che abbia continuato a fare anche la roba del pane o quello che era infatti se non ricordo male ho letto anche che molti artisti hanno un side job diciamo comunque un secondo lavoro o un hobby molto persistente in cui fanno tutt'altro spesso sono lavori manuali in cui non devi stare a pensare creare ideare cose tipo non so giardinaggio cose rilassanti che gli permettano di staccare da quel lavoro lì una cosa che salva spesso me è il fatto che mi sono sempre giostrata molto tra tipologie molto diverse di lavori sia perché appunto in parte sono in disegni in parte erano video in parte erano altre tipologie di cose per tipi di clienti diversi e con temi sempre molto diversi e anche lo stile il fatto che io fossi abbastanza eclettica mi ha sempre permesso di fare robe sufficientemente diverse da non arrivare ad annoiarmi e questa è stata la mia salvezza probabilmente in buona parte per altri è trovarsi cose diverse conosco tanta tanta gente che più di una volta all'anno arriva al burnout in cui arrivano a dirmi ormai mi fa schifo disegnare quando io so benissimo che loro amano disegnare ma le situazioni che si sono accumulate facendo quel tipo di lavoro che stanno facendo gli stanno facendo scoppiare ogni organo possibile magari non è il tipo di disegno magari è il tipo di committente in certi casi magari si sono specializzati lavorano per delle ditte grosse ma lavorare per ditte grosse ti fa avere guadagni migliori ma hai contratti diversi hai tempistiche molto più strette rompono di più il cazzo eccetera quindi si accumula molto più stress magari che facendo lavori per non so un'agenzia più piccola una casa editrice o dei committenti privati quindi non dico semplicemente l'ambito artistico magari è proprio l'ambito relativo al tipo di persone con cui avete che fare qualsiasi sia la cosa che a un certo punto vi rendete conto che vi sta stretta e vi prude sai come quelle calze di merda di lana che ti mettevano a Natale tu stavi lì a tentare di grattarti le gambe la mamma no c'è la messa e tu vuoi lì che volevi staccarti via le cosce ecco non lo so magari i maschietti non hanno mai avuto questa grande gioia delle calze di lana di merda che sembrano fatte di ortiche ma vi assicuro che non è piacevole ecco solo che le calze le puoi strappare le situazioni attorno è più difficile perché non sono oggetti fisici non riesci subito a identificare cosa ti sta facendo venire il prurito che vuoi staccarti via un arto a morsi e quindi quello che vi consiglio in questo caso è di ascoltarvi una volta ogni non ogni 5 minuti ma magari una volta ogni 2 mesi ad esempio prendetevi del tempo con calma per fare un po' il quadro della situazione perché l'essere umano tendenzialmente va per inerzia nel senso che quando comincia una cosa gli è più difficile smettere e cominciare una cosa è più difficile in generale di questo magari ne parleremo anche nel fatto del procrastinare il fatto che cominciare una cosa dare lo sprint iniziale spingere la macchina è la cosa difficile dopo quando hai già cominciato a farla risulta più difficile ma pensate anche a una qualsiasi azione tipo dovete lavare i piatti lo rimandate per 3 giorni all'ennesima quando finalmente ti dite dai lava li lava li lava e ti avvicini al lavandino sollevi quella maledetta spugna una volta che le mani bagnate dite vabbè ormai sono bagnate e li lavi e magari ci metti 10 minuti e l'hai rimandato per tipo 3 giorni per niente quindi la stessa cosa succede spesso anche nelle situazioni più complesse della vita che non lavare i piatti quindi magari un rapporto di lavoro magari un tipo di attitudine che avete nel lavoro cose ve lo trascinate per tempo e a volte perdete di vista quella bella montagna dove volevate andare quindi magari ogni due mesi vi mettete un'oretta lì a fare il quadro della situazione di ok a me cosa piace fare di quello che ho fatto fino adesso cosa che mi è piaciuto cosa che non mi piace non mi sta bene mi fa star male non necessariamente male ma magari vi rende meno bello quello che fate cercate di fare un attimo il punto della situazione e riorganizzarvi se vedete che qualcosa non sta andando benissimo magari ve lo segnate come cosa tipo ok fra due mesi se ancora quella cosa funziona male la mandiamo a fare in culo e cercate di cambiare un po' il tiro tipo a me sarebbe piaciuto fare di più quella cosa non ho mai avuto tempo e magari decidete di dedicare del tempo a provare quella cosa nuova quindi cercate di riaggiustare la rutta ecco date una controllata alla vostra bussola di Jack Sparrow per vedere se state ancora andando da quella parte o se tipo avete preso la tangente nel frattempo o se la direzione della bussola è cambiata perché come ho detto le cose cambiano il cambiamento non è male il cambiamento è nostro amico più abbracciate il cambiamento meno le cose vi fanno paura se voi siete abituati a affrontare ogni situazione che vi si parla davanti nuova a dire boh vabbè provo arrivate a un punto in cui diventa talmente un'abitudine che non vi non vi viene neanche più l'ansia la paura di oh e se va male cioè vabbè provo andate e anche questa è una cosa che si acquisisce negli anni e devo dire è molto bella è molto rilassante ma arriviamo al punto in cui ci sono delle persone che letteralmente non sanno cosa fare non sanno come cominciare in questo caso intendo proprio non sanno come cominciare a farsi conoscere nel mondo del lavoro per questo non vi starò a indicare tutti i siti possibili perché nell'arco degli ultimi dieci anni ho provato i lens fiver freelancer ci sono un sacco di siti che in modi più o meno meritevoli mettono in contatto possibili clienti con possibili artisti ci sono un sacco di ragazzi che conosco che lavorano tantissimo tramite instagram una ragazza in particolare che adesso tra l'altro mi parla avori per sta facendo della roba per magic the gathering così una cosa già così ho ordinato una roba per wizard of the coast ma maledetta lei per esempio mi ha detto che si trova molto bene o almeno si trovava molto bene prima di magic con tumblr tumblr che non so pronunciare che per esempio è uno dei siti che non ho mai provato ma ha detto che lì per esempio la comunità artistica è molto più unita molto più aggregata tra stranieri quindi è meno archiuso nella metallità italiana probabilmente e c'è molto più rispetto a detta sua per il lavoro artistico e qualsiasi committente abbia incontrato lì era molto più propenso a pagare il giusto a dare giuste tempistiche a romper meno i coglioni quindi questa esperienza di seconda mano ve la giro così provai the variant art provai di tutti i colori e i primi lavori arrivavano così un po' per passaparola perché semplicemente rompevo la minchia chiunque incontrassi non sul lavoro ma perché ero talmente appassionata da photoshop dal fatto di disegnare che ogni volta che incontravo una persona parlavo di quello e di conseguenza ormai mi identificavano come quella che fa i disegni cioè volenti o nolenti lo sapevano tutti i miei conoscenti poi apri youtube che era cominciato con i tutorial ma tramite quelli tramite alcuni video con obi delle ragazze cominciai a fare dei lavori per loro c'è stato un periodo in cui gestivo la bellezza di 10 blog quando ancora andavo nei blog e di fatto avevo accesso a 10 dei blog più grossi di roba di trucchi e moda e ogni tanto pensavo se solo io volessi potrei incularmi tutti i loro guadagni di adsense non l'ho mai fatto però avevo molto potere nelle mie mani questa cosa mi gasava un sacco cioè io quatta quatta avevo le mani in pasta un po' dappertutto perché perché probabilmente avevo la faccia da culo la stessa che mi aveva portata a disegnare roba fantasy su dei manuali di cui non sapevo nulla solo perché avevo avuto l'ardire di provarci tante volte anche mi è capitato di trovare dei lavori chiedendo semplicemente a delle persone che mi piacevano di fare dei progetti assieme quindi non c'è un unico modo in cui uno comincia perché un po' sarà per passaparola un po' perché magari vi presentate sui social magari perché mandate qualche portfolio a un'agenzia io l'ho fatto molto molto tardi e devo dire che sono contenta di averlo fatto molto tardi perché nel frattempo ho fatto in tempo fare tantissime altre esperienze che mi hanno permesso di capire che cazzo è proprio figo avere un'agenzia quindi le cose che non mi piacevano del rapporto con i clienti prima adesso sono diverse perché sono clienti diversi però ho scoperto che a me piace avere un agente anzi ne ho tipo otto diversi ad altre persone fa schifissimo invece è una cosa molto personale quindi i posti e i modi in cui potete conoscere i primi clienti sono veramente tantissimi e dipende tanto da quello che fate perché sono delle persone che lavorano molto in tradizionale che paradossalmente potrebbero trovare molte più offerte dal vivo cosa che a me non succede perché io aborro stare fuori con gli esseri umani non sono così tanto misantropa però insomma per me è molto più facile da computer visto che ci vivo attaccata per altri magari è più facile dal vivo o col passaparola di persone quindi il dove è un po' ovunque ma sul come cominciare mi permetto di darvi un suggerimento nel momento in cui non avete nulla quindi siete dei fogli bianchi perché avete cominciato da pochissimo o volete ricominciare a reinventarvi il mio consiglio è di partire da un progetto personale quindi partite da qualcosa che vi piace che può essere un film un libro qualsiasi cosa e createlo fate un lavoro come se vi fosse stato commissionato ma con un tema che vi piace questo vi permette di capire tante cose di voi intanto le vostre tempistiche intanto vi dà il modo e vi sprona a portare a termine un progetto a lungo termine o medio termine insomma diciamo non il singolo disegno terzo qualsiasi cosa che sia un progetto coeso che può essere un libro un video o qualsiasi cosa del genere normalmente ha una storia ha un legame e risulta molto più facile per le persone da fuori affezionarsi a qualcosa che ha una storia anche se voi non disegnate benissimo ad esempio il fatto di avere una storia da raccontare qualcosa un filo conduttore vi aiuta tantissimo può anche non essere una storia potrebbe essere ad esempio un personaggio che riproponete in varie vesti e quindi le persone si affezionano a quel personaggio pensate a quello che succede a cose tipo pusheen cioè ci sono dei personaggi a panda piace ad esempio che a me fa cagare quindi a panda piace ma a max panda piace fa cagare che però sono diventati famosi perché c'era sempre lo stesso personaggio ricorrente quindi più volte vedi un personaggio più se ti piace ti ci affezioni perché comunque è come se proseguisse la sua storia ogni giorno ha un'avventura diversa ogni giorno ha una frase diversa diventa comunque un qualcosa a cui ti leghi tantissimi artisti meravigliosi hanno cominciato facendo dei webcomic ad esempio su facebook io ricordo all'inizio l'opu ten che aveva cominciato postando le tavole del suo commetto su facebook e il fatto che ci fosse una storia che lei ovviamente avesse questi disegni così meravigliosamente evocativi e poetici l'ha aiutata più di quanto non avrebbe fatto probabilmente postare disegni e basta singoli perché il disegno è bello e dice ah ok ciao fine e arrivederci mentre se c'è una storia che ti appassiona sei anche più invogliato a tornare e alla fine ti affeziona con le persone al suo stile adesso lei molto spesso disegna tavole singole però ogni volta che la vedi cioè è l'opu ten ormai è il personaggio ormai sei affezionato allo stile e a lei come persona ci sono persone che sono diventate famosissime facendo un cartone fatto in casa e senza quello non sarebbero arrivate a fare fumetti o altro perché nessuno prima l'avrebbe conosciuta così tanto ci sono persone tipo Saki Mi Chan che era diventata quella che faceva i gender band quindi prendeva i personaggi famosi e li ridisegnava con il sesso opposto certo adesso sei incastrata in quella cosa lì dove disegna praticamente solo porno e ho pietà di lei nel senso che farà sicuramente una pacca di soldi ma non cambiare la mia vita con la sua mai cioè tutti i giorni obbligato a disegnare la stessa identica cosa praticamente decisamente non fa per me o magari lei si diverte come dico sempre è molto personale la cosa io non lo farei mai magari a lei piace resto convinta che ormai sia un lavoro che non ha perso molto della parte divertente però magari non è così magari mi sbaglio ad esempio di recente ho suggerito ai miei i miei piccoli disegnatori invece di fare delle tavole di disegni di personaggi sconnessi di farle magari con un senso e di pubblicarli in forma di video quindi come se fosse una storia animata perché anche quello ad esempio ti dà modo di vedere tutto un unico progetto e quindi la bellezza della singola tavola in proporzione viene amplificata dal fatto che è collegata con le altre se voi immaginate di fare dieci disegni dieci tavole complicatissime con i personaggi fighi eccetera e postarli così come sono su instagram molto probabilmente vi daranno una visibilità a dieci se le stesse tavole hanno gli stessi personaggi che proseguono una storia e le mettete una in fila all'altra con una musica di sottofondo ad esempio una bella canzone e le mettete come video come fosse un video animato vi garantisco che invece che dieci faranno almeno quattrocentosettantacinque numero studiatissimo perché comunque alle persone piace avere una storia da seguire e affezionarsi i personaggi e domandarsi cosa gli succederà dopo cosa che non succede se fai tipo il gattino e basta io mi so dare ottimi consigli ma poi seguirli ma non so diciamo io lo faccio molto poco ma lo faccio con i libri e quindi non ho più bisogno di farlo ma sarebbe stato un ottimo consiglio all'epoca per Max giovine maledetta che non avevi un mentore tra l'altro i progetti personali sono dei progetti diciamo a tempo perso nel senso che sono tendenzialmente gratuiti non è detto perché ad esempio ci sono delle persone che seguono su instagram che fanno delle bellissime illustrazioni ad acquerello che sono legate tra di loro dallo stile e dai colori una in particolare ha fatto una serie chiamata Nebula che sono tutti animali acquerellati blu e oro bellissimi e una volta che ne ha raccolti abbastanza ha provato a farci un kickstarter quindi in realtà il fatto di avere un progetto coeso come può essere quello che vi esce fuori quando fate l'inktober può comunque essere un qualcosa che una volta che raccogliete se hanno degli elementi in comune le cose che fate vi è più facile raccoglierli e creare un prodotto o da vendere o comunque che potete proporre quindi potrebbe essere che andate da una casa editrice o quello che è di vostro interesse con un qualcosa di finito da far vedere che dimostra non solo le vostre qualità a livello tecnico ma anche la vostra capacità di portare a termine con coerenza un progetto dalla A alla Z ed è una cosa molto importante lavorativamente parlando secondo me i progetti personali tra l'altro rientrano nella tipologia di come fare come iniziare non con i lavori gratis se lavorate gratis fatelo per qualcosa che vi piaccia ad esempio un progetto personale o un progetto che fate con un'altra persona amica sottolineiamo 75 volte la parola amica perché vi capiterà tante volte nella vita miei cari di incontrare delle persone che diranno salve ho un progetto bellissimo per un libro facciamolo insieme e vediamo come va quindi mi stai dicendo brutto stronzo che tu hai scritto una storia e stai cercando un disegnatore che te la disegni gratis poi se le cose vanno di merda perché la tua storia faceva schifo non ci è speso un centesimo io me la sono presa in culo molto bene no grazie next sì un sospiro era doveroso badate badate molto bene tra retribuito poco e gratis nel dubbio è meglio gratis per la mia esperienza personale questo me l'ha insegnato uno dei miei due mentori perché ho una specie di mamma e una specie di papà disegnativamente parlando sono due persone che mi hanno aiutata molto a livello pratico e pragmatico e sono Morena Forza e Mirko Failoni noto solo ora che cominciano tutti per M M e F cazzo io ho sempre amato la M però non mi ero mai accorta che sia la mamma che il papà avessero la M nel nome Morena e Mirko e Max cazzo scusate ho avuto questa epifania adesso oh mio dio oh mio dio penso che cambierò il mio nome in Max Fambaldi voglio anche io la M la F adesso comunque lui mi disse una volta per meno di 50 euro non alzare manco la penna che era un modo simpatico per dire che o le persone ti retribuiscono il giusto da giusto a molto bene a molto molto bene immotivatamente oppure piuttosto le cose le fa gratis nel senso se voglio fare un disegno per una mia amica che mi dice cosa vuoi Gandalf ad esempio se sentite delle fusa non sono io che ho imparato a farle ma è arrivato Gandalf se un mio amico o mio parente a cui tengo particolarmente e so che se lo merita volesse un disegno e so che è per una cosa carina io posso decidere di farglielo gratis se non sono io a decidere di farglielo gratis pretendo che mi venga pagato come mi verrebbe pagato da altri cioè fare le cose a 2 euro perché ah ma siamo amici no diciamo che è un'abitudine anche che vi aiuta a darvi il giusto valore vedi il video sul darci il valore perché nel momento in cui sono io a decidere che questa cosa ho deciso che la regalo mi è capitato di farlo anche per degli sconosciuti di regalare delle cose perché servivano ad esempio a dei progetti che per me erano importanti tipo se un canile mi chiedesse di fargli qualcosa probabilmente glielo farei gratis perché ci tengo io quindi è una mia scelta di regalarlo ci aiuta a tenerci in considerazione per cui se lavoro gratis è per una mia scelta è per qualcosa in cui credo in un progetto per una causa in cui credo perché magari qualcuno per un ente benefico che per lui è importante decide di fare qualcosa di gratis ha senso farlo a poco perché avete a che fare con un pezzente no 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 ripetete con me no ha senso fare delle cose gratis quando sono per voi quando sono per qualcosa in cui voi credete e che voi avete deciso di fare gratis non perché qualcuno vi ha fatto sentire in colpa non perché qualcuno ha detto ah ma siamo tipo cugini di quattordicesimo grado non perché qualcuno o qualcosa di esterno vi fa sentire obbligati a farlo è possibilissimo fare cose gratis perché non voglio che passi il messaggio che voi non dovete fare più un cazzo nella vita a meno che non vi paghino perché non sono una persona venale è molto diverso essere venali ed essere giusti perché per dei progetti che sto seguendo sto facendo le cose praticamente a una pipa di tabacco perché ci tengo particolarmente io che quelle cose vengano fatte bene quindi non mi interessa assolutamente del compenso in quei casi ma è una mia scelta quindi deve essere sempre una cosa che viene da voi e non perché vi fanno sentire che deve essere così che qualcosa è dovuto che qualcosa non sta bene che è brutto chiedere soldi perché la zia ermene gilda era così carina se a voi vi sta sul cazzo la zia ermene gilda non le dovete proprio un cazzo punto chiuso l'argomento voi siete la cosa importante voi le cose in cui credete i vostri principi le altre persone sono importanti ma non devono essere prevalicanti su di voi a me piace fare cose per le persone mi piace essere gentile è una cosa che mi fa star bene aiutare le persone ma deve essere una cosa che io decido di fare così come decido di fare questi video perché mi piace condividere le mie esperienze nella speranza che aiutino qualcuno diverso è quando come succedeva alla mia cara mammina qualcuno approfittando del fatto che lei era gentile scriveva di continuo come si fa questo come si fa quello anche cose che bastava googlare letteralmente fino al punto di domandarle ah mi dai una lista delle case editrici una cosa che magari lei si è raccolta nell'arco di cinque anni ha selezionato le case editrici che le piacevano di più quelle con lo stile più simile al suo questo qui bello bello senza manco voi non ce ne fa ah mi dai la lista delle case editrici che non ho voglia di cercarmele anche un paio di palle quindi questo è in generale il discorso non solo sui lavori ma anche su a chi fate i favori in generale dare una mano è gradevole essere usati letteralmente come bassa manovalanza e sfruttati è un po' meno gradevole quindi cercate di capire bene le persone di cui vi circondate cercate di capire chi vi ammira sinceramente e che sta tentando di usarvi come una pezza è una differenza sottile però state all'occhio e ve lo chiedo con cuore di mamma non sentitevi mai in colpa quando sentite che una cosa non va bene a dire di no mai il no è nostro amico inchinatevi al sommo no soprattutto non credete a quelli che dicono ah vi da visibilità apriamo a talopo una piccolissima parentesi sulla visibilità la nostra grande amica visibilità stesso discorso piuttosto che fare una cosa in cambio di visibilità che probabilmente significa lavorare a un progetto del cazzo se dovete lavorare grati si ganda fai ragione se dovete lavorare gratis lavorate per voi quindi se proprio dovete spendere energie e tempo per fare qualcosa di gratuito fatelo per fare un vostro progetto una cosa che vi piace una cosa che effettivamente potrebbe un giorno darvi visibilità per un qualcosa che vi piace e non lavorare a volantino per dei materassi con Elvis Presley o cose del genere che non vi porterà mai a nulla di buono era un esempio puramente casuale nell'arco del vostro percorso potreste decidere di camminare da soli o in compagnia l'importante è che valutate sempre bene le persone di cui vi circondate e con cui volete fare questa lunga lunga bellissima passeggiata parlo anche della community community della comunità che vi si crea attorno di eventuali follower che spesso sono sopravvalutati nel senso che ovviamente a tutti fa piacere penso penso non è detto avere dei follower avere un bel numerone ciccione rimpolpato che dice ah un sacco di persone importa quello che faccio però non è così importante se il vostro interesse è a livello lavorativo perché sono una marea di persone di artisti che lavorano professionalmente benissimo in una marea di ambiti diversi senza avere un social particolarmente pompato per il fatto che loro hanno scelto altri canali in cui lavorano direttamente con aziende lavorano direttamente con case editrici o altro per cui il fatto che abbiate o meno di follower che siate maschi o femmine la gente non lo sappia tipo max è irrilevante quindi dipende molto da quello che volete fare non è necessario essere famosi per vivere un lavoro soddisfacente per trovare dei lavori ben retribuiti non è necessaria la fama tra l'altro cosa che odio tantissimo è avere quel cazzo di numero su youtube con scritto 32.000 follower che sono lì da tipo il 1800 e di cui ce ne sono attivi se ne ho 300 voi sapete come si fanno a togliere perché io ho cercato in ogni modo di dire non c'è una cosa su youtube che ti permetta di scremare togliere quello in più perché è veramente brutto vedere 30.000 follower e poi il video visto da 300 persone scarse è una cosa deprimentissima ed è per questo che sono così importanti i vostri commenti perché sono quella la cosa che sin dall'inizio mi ha mandato avanti a fare video il fatto di avere comunque un riscontro con degli esseri umani per cui quello che dicevo era importante ed è una delle ragioni per cui io avevo un canale da 3000 passa follower e l'ho chiuso a parto questo e se mi giraste male un domani potrei chiudere anche questo aprirne un altro di nuovo da zero lasciatevelo dire i numeri non sono così importanti mentre essere circondati da poche persone con cui hai effettivamente un dialogo eccetera secondo me almeno a livello umano è molto meglio se avete comunque un sacco di follower se riuscite a essere famosi sicuramente schifo non fa la vostra carriera questo cioè non sto negando questa grande verità dico solo che non è fondamentale quindi anche se avete poche cose le condividite con poche persone non fatevi abbattere da dai numeri piccoli pochi like o cose del genere non è così importante è più importante quello che voi costruite dentro di voi e con questo quanto pare ho finito la mia scaletta sono incredibilmente brava cazzo vero Gandalf no Gandalf sale mio sulla tastiera però dai è così finita va bene io mi sono circondata di gatti vedi un po' te amore anche Gandalf vi saluta fa le fusa tenta di buttare giù il microfono e noi ci vediamo al prossimo video che molto probabilmente sarà sul procrastinare e vediamo se lo farò fra una settimana o fra otto mesi no fra una settimana dubito perché sarò a Luca Comics and Games a presentare giochi con ah Fantasia's Door però insomma abbastanza breve avrete mie notizie nel frattempo se il gatto non si uccide buona vita a tutti e buon proseguimento di giornate del vostro percorso e mi raccomando se avete notizie cose belle che vi sono successe o dei progressi che avete fatto delle cose che avete imparato e volete condividerli fatemelo sapere che mi fa veramente tanto piacere ciao a tutti